Firmato l'accordo tra Quedotto Pugliese ed alcune realtà pugliesi per sviluppare progetti di formazione, ricerca e cooperazione sul presente e sul futuro dell'acqua. Prende vita in Puglia un percorso per lo sviluppo di progetti e programmi di formazione e ricerca orientati sul bene più prezioso e vitale. Già nel mese di marzo 2023 infatti è previsto l'avvio di un mini master in collaborazione con la Water Academy, il centro di eccellenza di cultura e formazione di Quedotto Pugliese. Abbiamo voluto con noi la ricerca con il SACNR, il governo con l'Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo, il Politecnico di Bari, l'Unione dell'Università del Mediterraneo e il Siam, che è un altro punto di eccellenza nella regione Puglia per la sua capacità di trasferire e dialogare sui timi dell'acqua, in questo caso per l'agricoltura, con tutte le realtà della ampia regione mediterranea. L'accordo impegna i soggetti e i sottoscrittori a collaborare anche con aziende e enti pubblici. Fa parte dell'intesa anche lo scambio di studenti, docenti e ricercatori per visite di studio e ricerca nell'ambito delle proprie attività istituzionali di formazione. Inoltre iniziative, workshop e seminari che saranno anche realizzati con altre istituzioni italiane e straniere. Oggi c'è una riscoperta di tutta l'Europa del Mediterraneo, noi possiamo rivendicare con orgoglio che noi siamo il Mediterraneo, con l'agronomico, con l'AQP, il CNR, ecco noi il nostro auspicio è di poter essere e diventare motori del Mediterraneo in campo di ricerca e di formazione.